Giovedì 14 novembre al Centro Sociale, per più in passato di Erice, si terrà il convegno Il Crack di Ingabbia, promosso dall'assessorato alle politiche sociali giovanili e alla pubblica istruzione del Comune di Erice. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti della sanità, giornalisti e membri della società civile, insieme a esperti del SERD di Trapani, il Servizio delle Dipendenze Patologiche. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare i giovani che saranno presenti al non uso del Crack. Saranno presenti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, ma anche i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. L'iniziativa è una seconda iniziativa sul Crack, ne abbiamo fatto una il 20 di maggio. Abbiamo il patrocinio dell'ASP e quindi la collaborazione anche con il SERD, ma soprattutto abbiamo pensato di fare questo evento in collaborazione con l'Ordine degli assistenti sociali, perché chi ha una difficoltà afferisce poi proprio agli assistenti sociali spesso prima di andare al SERD. Quindi abbiamo pensato di fare questa collaborazione ed è un evento accreditato anche per gli assistenti sociali. Importante è la presenza dei genitori. Partiremo da testimonianze di due genitori, una arriva dalla provincia di Enna e altri sono genitori del nostro territorio. Nella prima parte della mattinata, oltre alle testimonianze, parleremo di questo DDL, del DDL anticrack che Lars ha votato alla fine di settembre. Ma il nostro obiettivo è soprattutto di spingere i giovani a chiedere e di far comprendere quali sono, tramite anche l'intervento del psichiatra, di far capire quali sono gli effetti negativi.